Questo è il nuovo copricapo degli stuntman culinari. Mi sto inventando una professione. Sì, pensavo che fosse un uovo di dinosauro. Perché? Ci assomiglia. Felice Valley, rivenzi a tutta la valle spaziale. Io vi definisco stuntman culinari ma anche occhi all'ingrasso. Tra l'altro siamo a fare un secondo episodio di un video che ho sofferto molto. No, non l'hai sofferto. Ma perché? Sono strabuoni. Non sono buoni, sono conservanti, sono malsani. Però questa volta c'è una regola. Esatto, perché poi voi dite ma in realtà vi abbuffate. Vi abbuffate, quindi potete dare solo un morso al tramezzino. Però grande quanto vogliamo. Grande quanto vogliete, però io ti ricordo che sono 27 tramezzini. 27 tramezzini? No, vabbè, adesso l'ho sparata a caldo. Che ne avevano un po'. Secondo me... Abbiamo già fatto un episodio in cui abbiamo testato tantissime tramezzini di tantissime marche. alla ricerca del migliore di ciascuna marca. Quello che faremo oggi è un pochino diverso. Forse anche un pochino più interessante. Perché abbiamo preso i tramezzini di marca supermercato. Quindi quello che faremo oggi è testare i tramezzini di ogni supermercato alla ricerca del migliore. Il tramezzo è tornato, ma è quello del supermercato. Costano anche meno rispetto a quelli dell'altro video, quindi... Oddio, ma sta set, ma anche io. Prosciutto cotto. A noi comunque fare sta guerra tra supermercati piace sempre un botto. Sì, è bellissimo. I tramezzini questa volta sono divisi per gusto e con gusto intendiamo ingrediente principale. Esattamente. Perché poi ogni supermercato lo rivisita un po' come gli pare. È figo quello, vedere che appinamenti fanno. Anche perché secondo me la gente ha guardato e ha detto sì, ma questo che ha la diarrea è in mezzo. No, quelli sono funghi. Ho sbagliato, quello lì è il tonno. No, è il tonno quello. Adesso partiamo con la copp. Sì, copp, grande classico. Sai che io e il tramezzino a prosciutto cotto abbiamo un rapporto particolare. Sessuale? No, di base a me il prosciutto cotto. Il prosciutto cotto non fa mai impazzire, ma è un mio guilty pleasure il tramezzino prosciutto cotto e maionese. Ricordiamo che abbiamo soltanto un morso disponibile. È bello comunque. Se tu lo dai in un angolo io dopo lo posso mangiare. Ecco, perfetto. Ma non c'è niente in un angolo quello lì. Non è male però, eh. Il prosciutto è buono, la maionese è sempre quella che è. Ma ci sento un po' se puoi a maionese. Olio di colza. Ma io non ho capito dopo anni che cos'è l'olio di colza. È un olio un pochino più cheap rispetto all'olio di colza. No, però secondo me l'olio di colza lo puoi utilizzare come olio motore. Il prosciutto è bello spesso. Guardi i fettoni, sono belli ghiotti. Però mi viene fame. Carrefour. Questo è l'abbinamento cotto e mozzarella. Mi vuoi roi. Io ho detto che il mio guilty pleasure, quello da autogrill la notte che mi faccio fresco, bello, rilassante, è cotto e maionese, ok? Ma assaggia questo perché vedrai. Questo qua c'è anche il pomodoro tra l'altro. Come? Scusa, non l'hanno dichiarato? C'è il pomodoro. Vedi il pomodoro? Ah sì, è vero ma c'è un fettone. Polza è che è così duro. La mozzarella. Non mi piace. Non vi piace? È un buco nero di sapore. Non sa di niente. Sa di fresco. Leggermente di mozzarella. Qui è bagnatino per il pomodoro, mi dà un po' fastidio. Il prosciutto scompare. Passiamo al Lidl. Come sono bianchi? Guarda, come sono maionesi. Posso dire al botto maionesi. Sono un botto maionesi? Così? Strabordo. Ma che c***o faccio? Sembra stracchino questa maionese. Comunque questo a livello estetico assomiglia molto a quelli che vedi ai compleanni. È sabbia. Sì, il pane è troppo sabbioso. Sa un botto di prosciutto cotto. È quello che sa più di prosciutto. La cascatoletta. La maionese è tipo stracchino. Buono per niente. È molto simile al primo come concetto ma tipo prosciugato. Grande. Ma è un genio questo. Ins. Ins. Quindi se rivisita il prosciutto cotto abbinandoci i funghi. I funf. Ah, l'altro giorno ho coniato un nuovo termine. Il supermercount. Ok, discount, supermercato. Tipo la Lidl una volta era un discount. Adesso non lo è più praticamente. Però in cuor nostro lo rimane. È molto simile al primo. Molto maionesoso. Sa tantissimo di maionese. Ma se becchi i funghi ti danno quell'impiù non male. Troppa maionese. C'è solo un filetto piccolino di prosciutto cotto. Non si sente assolutamente. È un po' acida la maionese anche. È un po' acida. Conad. Attento a quel ditino che è dietro. Ma ecco, non era proprio quello. Ma non puoi usare la lingua. Guarda, ce n'è una nettamente più farcita rispetto all'altra. Prendete il farcito. Il pane è figo. È vero pane. È vero pane? Molto simile al primo. Però si sente molto il prosciutto cotto. E la maionese non è male. Ma secondo te si sente molto il prosciutto cotto perché è più buono o perché si sente meno la maionese? È una domanda difficilissima. Non male però, vero? Però il secondo morso mi è piaciuto meno. Hai dato un secondo morso? Sì. Dopo aver scansionato tutti questi tramezzini, quello che mi è piaciuto di più probabilmente è il primo. Anche a me. Tonno. Posso dire che questi qui dell'Inse sono bellissimi. Sembrano tipo fatti da un artigiano dei tramezzini. Il laboratorio del gusto. Partiamo però dal primo della copp. Tonno e uova. Devo dire che tonno e uova è il tramezzino tipico che si prende al bar quando ha finito tutto il resto. Ma non l'ho mai preso confezionato. Di solito le uova sono marce. Uh, è uscito un odore di scorreggia. Cioè l'uovo che sembra quasi strapazzato dentro. È il tramezzino del bar. Buono. A me piace un bottone. Secondo morso! No, no. È morbidissimo. Super equilibrato come sapori. Il tonno si sente poco. Cioè me lo aspettavo più presente. La maionese lega bene. È solo perché quelli copp non è che si presentano che dici, oh mio Dio. Invece è molto basic ma giusti. Passiamo alla cafe. Anche questi qua. Bello. Le uova. Bello, bello. Ma in più, oltre alle uova, la salsa tonnata. Buona. Le uova tonno e salsa tonnata. E vino bianco marsala. Marsala. Capperi. Lattuga. È gigante. Sembra veramente un Big Mac. È proprio pasciuto. Guarda per te. È bagnato. È molto bagnato. E comunque c'è l'insalata iceberg. Acidissimo. Ma in realtà è rancidissimo. È proprio il sapore del rancho. Non è che è andato male. Non ci siamo. No. Lidl. Che strano. Ma che ca... I tipici colori che non mi ispirano per niente. Mediterranei invece. Ma per il pane integrale dai. Non rompere i marroni. Ma c'è il marroncino con quel verdino. Il verde e il rosso. Molto, molto saporito. Si sente moltissimo l'oliva. Non si sente il tonno con le uova. Io non sono un fan di questa combo. Ma non è tattivo per niente. Sai cos'è che è buona? La maionese che forse è salsa tonnata. Oh, finalmente uno che sa aprire un tramezzino. Adesso stringilo finché. Tonno, olive e pomodolini è uguale. Ha molto meno pomodoro. Dov'è il pomodoro? Il pane? È figo. Il tonno è stopposo. Ma è molto saporito. Si sentono sicuramente meno le olive, meno il pomodoro. È più verso un tramezzino tonno e maionese. Però tipo a me piace di più. Questo qua è pienissimo. Ma lì ti fregano perché è tutto davanti. Di ripieno ce n'è, ovvio. Nei bordi ce n'è meno. Ma come in tutti quanti. Questo è un classico tonno e maionese. Molto buono. Buono il primo. Fa me lo risentire. No, no, no. Ok, no, va bene. C'è l'altro, lo devi ricordare. Forse qui è più buono il tonno rispetto al primo. Sono confuso. Non capisco se vi è piaciuto più l'abbinamento in mezzo di Lidl e Inse oppure vi è piaciuto più la semplicità. A me è più classico così. Senza oliva in mezzo con lì. Perfetto. Sì, diciamo che chi l'ha giocata sulla semplicità forse ha utilizzato anche gli ingredienti migliori. Conad, io dico. Conad. Salmone. Stiamo davanti a un grande classico. Se ci fosse l'avocado sarebbe un avocado toast. Non c'è, non è un avocado toast. Partiamo con la copp che dice tramezzini gourmet, salmone, crema alla crescenza e erba cipollina. Cosa è la crema alla crescenza? La crescenza? O è crescenza o è... Salmone cotto qua. Buono questo odore? Oh, buono. Sa di canederli. Come sa di canederlo? C***o è canederlo. È un canederlo. Ma che cosa vuol dire? Canederlo lo spetta. Passiamo alla Lido. 600 euro. Un botto di salmone solo al centro. Il salmone l'ha messo nel tubo di scappamento di una macchina. Perché è affumicato? Ma di brutto. Il pane che è integrale. Veramente affumicato a livelli nauseabondi. Ci sta, ma non ci sta. No, no, no. Dai, ma perché? Ma è venuto bene. Il salmone è cotto. Ed è distribuito anche bene. Ah, il salmone è cotto? Che roba strana. Tutto molto secco. Molto, molto secco. È molto insapore. E lo vorrei, crudo il salmone, non cotto così. Che noia. Ha una affumicatura che è anche... Sta di sigaretta. Come sta di sigaretta? Ma che schifo. Se non più si fa male, eh. Sì, ma se li fanno che non sono apribili... Salmone è crudo. Sì, ma... È maionese. Perché ha? No. Io non so quanto ne hai tu. Vabbè, dai, Nelson è meglio. Però capisci la frustrazione. Sì, ma sì, capisco. Salmone non pervenuto. Ma perché non ce l'hai? No, vabbè, ho mangiato solo la puntina di sandwich che aveva la punta di salmone. La maionese è violentissima e il salmone proprio è annichilito. Quindi è da migliorare sto sandwich al salmone. Quanto pare è difficile. In generale. Beh, direi che la vince il canederlo. Si, ma sta di canederlo. Ma è buono, i canederli sono buoni, cioè. Gamberetti. Perché solo tre? Tre rivisitazioni diverse dello stesso alimento principale. Perché nel primo caso abbiamo dei gamberetti con salmone. No, basta, gamberetti non li avevo visti. Nel secondo caso abbiamo invece gamberetti e rucola, quindi una cosa un pochino più fresca. Nel terzo caso invece abbiamo gamberetti e maionese. A me però mi viene un po' il vomito. Questo di che cos'è? Ah, copp. Oh, questo è buono. I gamberetti sono grandi, non sono più quelli dell'altra volta da tartarughe. È un tramezzino dolce. Ma alla fine perché i gamberetti sono dolci. Sì, ma anche la salsa cocktail. Però non si sente il sapore di gambero. Non ci vivrei. Assolutamente. Buono da aperitivo. No, dai ma come a tagliare? Vabbè, caro. Io ho un gamberetto. C'è un po' di salsa cocktail anche qui dentro comunque, è rosa. Questo è buono. Sa di pizza. No, non è vero. La rucola sa di pizza. Ti può ricordare la pizza alla rucola. Dipende se prendi la pizza alla rucola. Ma questo è buono. La rucola ha un sapore troppo invasivo. Ti può disturbare, certo. Cioè, sa molto di rucola sto coso. Se ti dicessi, chiudi gli occhi, quello che stai mangiando è un tramezzino rucola e prosciutto, avrebbe comunque un sapore azzeccato. Sì. Ma Cesare, capisci? Ma lo spiacci che... Cesare, Cesare, pagherei per vedere una versione di... No. Ah, mare, mare. Oltre al fatto che comunque ci sono veramente due gamberetti, almeno è sempre sulla punta. Sta di marcio. Sì. Perfetto. No, questo non lo finirei. Questo è andato. Direi che il migliore per il mio gusto è il primo. Tu voti il secondo, vero? Sì. Mi stavo il terzo. Ho la bocca che sta tipo di ricotta di pene. Che scherzo. Ma c'è una puzza tremenda. Lascia perdere. Special. Eccoci arrivati alla manche speciale. Special. Qui abbiamo il mio tramezzino preferito. Ma che c***o è questa roba? È specchio e provolone. Sì, ma ci sono carote dentro. È roba arancione. Tramezzini con pomodorini, feci e olivetta giasche. Questi io lo prendo sempre quando vado alla Lido. Allora, partiamo con un pollo e bacon. Questo è... Di base un club sandwich. No, i semini sono mega rompiscato. Sa di pollo? Ma un po' schifo. No, no, a me non dispiace. È leggermente acidulo. Secondo me c'è troppa maionese. Se io mi immagino un pollo e bacon, non mi immagino sta valanga di maionese. Il problema è che non c'è il bacon. Non c'è il bacon? Effettivamente. Non c'è un po' di bacon. Aprendolo, hai il pollo che sono queste fettine. Ah, tu ce l'hai il bacon? Io non ce l'ho. Ma dov'è? Ma questa fettona qui. Non è pollo, è bacon. Quindi non è abbrustolito, è grasso e basta. Non è malvagio come sapore ma non lo comprerei. Passiamo a questo che in realtà mi ispirerebbe. No, questo è quello che mi ispira di più. Aspetta. Ma guarda quante carote! Comunque ragazzi vi chiedo un po' di velocità perché noi abbiamo alla seconda camera Nicolas che sta male, sta sudando per colpa dei tramezzini. Provate su Around the Valley tutta l'avventura. Quanto pare Nicolas con i tramezzini inizia a sudare ma fradicio. No, non è sporco. Mera, ma ha assordato. Ma ha spaccato il timpano te lo giuro. È terribile. Cioè sarebbe anche buono però ci sono le carotte. Siamo le carotte. Ammetto che non ci trovo un senso. Lo speck ci sta perché ti rende tutto saporitino. La provola poco però la carota non ha sapore e ti crea solo questo squish squish scratch scratch inutile perché poi non sa neanche di niente. Per me è un grandissimo no. Ma adesso passiamo. No, 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 no. È letteralmente una busta di carta che fai così ed è aperta. Cos'è questo? Olivetaggiasche, feci e pomodorini. Con anche l'hummus. Ma non è che c'è l'hummus. È che sono ceci. A me piace un botto perché sa tantissimo di olivetaggiasche. L'hummus a me vabbè fa sbrodolare. Il pomodorino è acidulo al punto giusto. Quindi questo special funziona. A me piace. Promosso. Molto promosso. Io andrei senza dubbio ma sono di parte. Su di lui. Io voto questo con le carote. No, non è vero. No, voto anche l'ultimo. Signori, io credo non prenderò mai più un tramezzino per i prossimi mesi e anni a venire e che hanno useato. Credo nessuno. Vorrei che nei commenti ci veniste a scrivere non tanto quale tramezzino mangiate di solito non tanto quale supermercato non tanto ma se vostra nonna ha avuto la cataratta. No, non quello. Se avete più paura di un catetero o di una colonoscopia vorrei andaste a scrivere che cosa non avete mai visto ma vorreste vedere in forma di tramezzino. Noi ci vediamo tutti i lunedì e giovedì dalle ore 18 in live su Twitch ci vediamo in questo momento su Arande Valley per cercare di scoprire perché Nicola sta continuando a sudare mentre lecca il burrito da per terra. Iscrivetevi e attivate la campanella ragazzi. No dai ti prego. Dai 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 ci vediamo e buon sandwich. Ah anche il nostro podcast che vorrei editato già velocizzato. Già velocizzato? Cambia completamente la nostra sigla è proprio un altro mondo. Cioè hai della gente che pensa velocissima e dice le cose velocissimamente. Ma io ormai mi sono tarato su quello. Ok ok va bene va bene. Ormai mi aspetto che il dialogo è proprio pum 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 pum. Ma io ormai mi aspetto